Mi chiamo Giovanni Cappelletti e sono un attaccante dell'Under 17 Ho iniziato a giocare a calcio quando ero molto piccolo nella scuola calcio Bagliardo e due anni fa è arrivata la chiamata della Sampdoria e ero molto contento per questa chiamata non ho esitato e ho accettato subito La passione per il calcio me l'hanno trasmessa soprattutto i miei genitori Devo ringraziarli molto perché mio padre non c'è sempre stato nei momenti in cui bisognava accompagnarmi al campo infatti mia madre ogni volta mi accompagnava al campo però mio padre è sempre presente anche insieme alle mie sorelle la domenica quando gioco lui c'è sempre anche se durante la settimana magari non c'è perché lavora fuori A me piace essere di più una seconda punta non sono una prima punta vera e propria mi piace infatti magari non giocare tanti in era di rigore ma venire in conto a prendere la palla e tutto non sono sempre stato un attaccante ai tempi del Bayard giocavo a centrocampo quando sono arrivato qua due anni fa mi hanno spostato a fare l'attaccante è un ruolo che mi trovo molto bene perché mi piace molto farlo il mister Alessi mi ha insegnato molto soprattutto mi ha insegnato diciamo che è con lui che per la prima volta ho iniziato a giocare da attaccante la Sampdoria e mi sono trovato molto bene e quest'anno anche con mister Bellucci mi sto trovando molto bene anche con lui è uno che ti trasmette molta grinta prima delle partite e soprattutto vuole sempre al massimo anche durante gli allenamenti e quindi mi sono trovato bene con tutti e due lui alcune volte durante durante gli allenamenti magari ci fa vedere qualche qualche movimento così ci insegna qualche diciamo trucco del mestiere tutto e noi cerchiamo sempre di prendere spunto gli attaccanti cerchiamo sempre di prendere spunto da lui perché è un ottimo esempio io frequento l'istituto nautico San Giorgio di Genova e ho scelto l'indirizzo logistica è una scuola che mi piace molto perché a me piace molto il mare essendo anche di Genova e quindi se non deve essere andare avanti col calcio comunque è una scuola che mi piace molto perché da molti sbocchi soprattutto lavorativi quando non sono a fare gli allenamenti così e non sono a scuola quasi sempre mi diverto con i miei amici e tutto li vado sempre a trovare perché giocano a calcio anche loro vado sempre a trovarli e insieme diciamo passiamo il nostro tempo libero i social network mi piacciono molto soprattutto Instagram queste cose qua però mi piace anche uscire andare al cinema diciamo uscire andare a fare i giri così mi piace molto ascolto mi piace molto la musica prima delle partite ma mi dà mi dà la giusta carica diciamo ascoltare un po' di musica serve sempre come come genere di musica una musica di adesso diciamo e comunque musica rap queste cose qua per parlare di momento personale diciamo che è un momento personale abbastanza buono e la squadra la squadra anche siamo partiti non tanto bene però piano piano ci siamo stiamo tirando su e adesso ci aspetto al giro di ritorno e cercheremo di dare il meglio per riuscire a vincere le partite il primo obiettivo di questa stagione personale cercare di dare il meglio per la squadra e cercare di aiutare sempre i miei compagni anche quando sono in difficoltà cerco sempre di dargli una mano e poi a livello di squadra cerchiamo di di riuscire a rialzarci diciamo e a arrivare a cercare di arrivare almeno alle finali grazie 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 grazie